E' appena iniziato il nuovo corso dell'Aquila Calcio. Ieri l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio d'Amministrazione composto da tre elementi. Gianluca Ius, che è anche il neopresidente del CDI dell'Aquila Calcio, e poi Francesco Vaglianti e Giuseppe Bilotti. Come previsto non fa parte dell'organo esecutivo collegiale, l'avvocato Tiberio Gulluni, che ha lavorato in queste settimane, rappresentando la compagine sociale Rosso Blu, che al momento non cambia, il passaggio delle quote sarà rimandato ai prossimi mesi. Ora c'è la necessità di dare operatività all'Aquila Calcio e Gianluca Ius dovrà lottare contro il tempo per completare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D, ben sapendo che, come da sentenza del Tribunale federale, l'Aquila partirà da meno due per non aver ottemperato i pagamenti degli ex tesserati Pepe e Peluso e non è escluso che altre penalizzazioni possano arrivare. Una volta risolta la grana iscrizione, si penserà al completamento dei quadri dirigenziali, con la nomina del manager sportivo ed ex procuratore di Cavani Claudio Anellucci a direttore generale e di Bruno Conti a consulente esterno della società. Quindi la scelta del neo allenatore è l'allestimento della Rosa, che ha già perso diversi elementi chiave dello scorso anno. Boldrini è andato al Modena, Caffiero al Francavilla, Padovani alla Torres, Ibe all'Arzignano e sono a rischio anche i vari Sieno ed Esposito.